Ora è normale, non siamo più legali, siamo normali, ok? Quindi facciamo quello che è il normale. Esattamente quando mancano 20 minuti alla una. No, alle due. Oggi è un'ora di musica in più. No, alle due. Oggi c'è, oggi c'è. Yellow, auguri, yellow. Volevamo ringraziare Glaskis per quello che il sabato sera riesce a fare. E' un'ora di musica in più. E' un saluto a Gianca, a Giancarlo. Il primo momento. Sonia. Il Maggi Maone. Antonio Velaskis presenta. Mario Max Mario Max Un saluto a tutta Italia E' l'Italia che balla in Zambia Ricordiamo il sabato prossimo in esclusiva Mario Più Ricky Leroy Francesco Farpa Joey Viticonti Sandro Vidoc Vicky Cillare Franchino E' un special guest star Il Principe Moritz From Exo Group Tony Bruno From Brando Sistaud Stefano Loferini Sabato prossimo Il Paraliso dei Censi Zambia Il Paraliso dei Censi Il Paraliso dei Censi Il Paraliso dei Censi Valori e il Paraliso dei Censi Scopo di Censi Il Paraliso dei Censi E' un film di Censi Il Paraliso dei Censi Ricordiamo domenica mattina 15 ottobre Insomnia in collaborazione con Kama Kama Organizza After Hour Dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio Si alterneranno al mixer per voi Francesco Farza, Ricky Leroy, Mario Pugio, Giochi Di Conti Sandro Vibos, Stefano Loferini Simon Ciro, Umi, Jamie, Gitanarico Stefano D'Andrea Alex Neri, Mario Scalabri, Luca Mazzini Ralf, Ricky Montanari Bruno Bolla, Lorenzo Domenica mattina 15 ottobre Casino Rossa, Luca After Hour After Hour After Hour After Hour Ok, After Hour Together 40 orario 15 ottobre 15 ottobre Oggi Insogna Disco Acropolis Italia Living Stage Matchwork Noise Park Benelope Targato Insogna Vai Antonio VELASCHE 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 5 3 2 Future 1 0 2 Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Grazie a tutti. 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 Mario... Grazie a tutti. Mario... e... 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 ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dice Dylan Doggo, voglio entrare nel momento del trepustolo, dove la musica non è più musica, ma la musica di meccanogia. Grazie a tutti. Voglio ballare. Grazie a tutti. Quando scelano i tuoi incubi, l'incubo della notte è l'insonnia. Quando non riesci a dormire, poi ti metti lì e ti giri sul letto, poi ti giri di qua, poi ti giri di là e non dormi. Perché hai l'insonnia in testa. Quando la musica diventa insonnia è perché non vuoi dormire. è l'insonnia in testa. E' 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 l'insonnia in testa. Grazie a tutti. 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 Barrio... Grazie a tutti. 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 a tutti.